Nel corso della nostra vita ci innamoriamo delle persone più diverse. Queste persone sono il riflesso del nostro io che cambia. Mentre l'amore va e viene, cosa facciamo con tutte queste esperienze? Siamo la somma dei nostri amori? Sono Chloé Barrault e sono la regista di Frammenti di un percorso amoroso, un film che vuole raccontare la potenza e la varietà delle relazioni amorose che si manifestano nella vita di ognuno di noi. Poiché la vita è un'avventura sorprendente, un susseguirsi di incontri casuali con una possibile e misteriosa coerenza. Ma quando le storie finiscono, come affrontiamo il nostro passato sentimentale? C'è chi ha dei rimpianti, chi seppellisce i ricordi nel profondo e chi è ossessionato dal passato. Faccio parte di questi ultimi, io che dall'età di 16 anni ho documentato la mia vita filmando, fotografando, conservando con cura cassettine, fotografie, lettere e oggetti. Scene ordinarie di vite perse fra milioni di vite. Parole d'amore semplici, usate da tutti gli innamorati. non avevo idea allora che sarei diventata regista. La mia era una volontà di cogliere l'attimo, il bisogno di trattenere il passato. Se l'amore non c'era più, restavano le prove. Oggi ho riaperto i vecchi cassetti, ma mi manca qualcosa. Cosa ricordano loro? Abbiamo vissuto la stessa cosa? Non posso essere l'unica a farmi questa domanda. Abbiamo chiesto ai miei ex di raccontare la loro versione dei fatti. Potrei essere l'unica cosa che hanno in comune. Con questo film voglio mettere in discussione la mia memoria e affidarmi al punto di vista altrui. Cercare la parte mancante del mio racconto, svelare le tante soggettività dell'esperienza amorosa. Attraverso le loro testimonianze andremo a scoprire la storia di una vita che potrebbe essere la vostra.